L'amministrazione Aliberti presenta i suoi nuovi responsabili dei settori urbanistica e polizia locale. L'obiettivo è dare nuova programmazione alla macchina dell'ente. A Palazzo Maier sono stati presentati il nuovo caposettore Gino della Donna e il nuovo comandante della polizia locale Pasquale Alò. Figure scelte personalmente dal primo cittadino scafatese che punta ora a nuovi ed importanti obiettivi. Da quando abbiamo cominciato a lavorare ho detto che questa macchina era una macchina di qualità che bisognava rafforzare di uomini e di donne. Lo abbiamo fatto attraverso il piano assunzionale, insomma in pochi mesi per settimana prossima avremo o raggiungeremo i 17 nuovi assunti. Certo attraverso altri graduatori perché fare i concorsi sarebbe stato insomma improponibile in questo momento. Poi rafforziamo anche la qualità dei dirigenti o delle persone che occupano ruoli apicali anche perché sono due settori strategici. L'architetto Gino della Donna rappresenta con il suo curriculum che banta presenze dirigenziali nei comuni di Bosco Reale e Torre Annunziata un punto di partenza importante verso la redazione del nuovo piano urbanistico comunale, un'emergenza amministrativa come spiegato da tecnici e politica. Sono qui a Scafati perché vengo da Torre Annunziata ma sono scafatese, d'oltre 30 anni abito qui e mi fa piacere appunto dare questa contributa nell'ambito dell'ufficio urbanistica con la quale mi pregio di poter dirigere e sperando di dare i risultati in tempi brevissimi così come previsti dal documento programmatico dell'amministrazione. Entro il 31 dicembre i comuni dovevano almeno dotarsi di un preliminare di PUC. Queste ore l'amministrazione sta adottando una delibera con la quale dà precisi indirizzi programmatici alla stesura, alla organizzazione di un ufficio di piano quindi che si occupa della programmazione urbanistica con l'asilia anche di professionalità specialistiche esterne per il supporto al RUP dove io appunto farò la redazione e responsabile del procedimento del PUC e quindi entro questo anno dare la possibilità di far partire tutte le procedure tese all'abito del procedimento del PUC quindi il lavoro è questo come prima emergenza che tratteremo. Stiamo parlando di un'amministrazione che insomma realmente è in carica da 4-5 mesi e che addirittura già parla di piano urbanistico comunale e parla già anche di una tempistica da qui a settembre al massimo io vorrei avere pronto il PUC in consiglio comunale per essere approvato e sarebbe insomma un atto straordinario. Pasquale Alò è uno scafatese di adozione dopo oltre 40 anni di servizio all'interno della Guardia di Finanza e raccogliere una nuova sfida personale per amore di un territorio che ha imparato a conoscere e verso il quale è pronto ad impiegare tutte le proprie competenze per garantire sempre più legalità e tutela del territorio. 34 anni vice comandante di una compagnia della Guardia di Finanza di Scafati a capo di 70 uomini una persona che quindi conosce Scafati, che vive a Scafati da oltre 40 anni una persona che si pone con il garbo non del militare ma del militare che mette a disposizione quelle che sono le sue competenze per la Polizia Municipale che naturalmente svolge ruoli molto più trasversali. Voglio mettere in campo la mia esperienza e la mia competenza per questa sfida nuova un lavoro diverso, collaboratori diversi, però ho visto che già armati di buona volontà quindi cercheremo di dare un aiuto al territorio che ha bisogno chiaramente speriamo in questo aumento del personale perché è ridottissimo dobbiamo rimboccarci le maniche, visto che sono stati pure senza un riferimento anche perché soprattutto nei rapporti con la magistratura c'è bisogno di confronto anche nell'ambito del reparto sono venuto proprio per mettere a disposizione questa mia esperienza.